Ehi la, avanti delle proprie di Club Italia, siete pronti per un'esperienza indimenticabile? Ebbene sì, signore e signore, la regione Sardegna ha deciso di investire ben 62 milioni di euro sonanti sul trasporto pubblico nella sua regione. Venite, venite subito in Sardegna, venite subito a sperimentare questa incredibile esperienza! Sardegna, venite subito in Sardegna! Sardegna, venite subito in Sardegna!